buonasera a tutti e ben ritrovati per un nuovo appuntamento con le pillole di letteratura giapponese con hip hop anche questa sera sono qui con la nostra mascotte marunianne che ormai il mio compagno fedele di questa nuova stagione delle pillole di letteratura letteratura come avete visto nelle scorse puntate e non solo oggi voglio parlarvi non di un romanzo ma di una raccolta di racconti matsumoto seicho la donna che scriveva haiku e altre storie pubblicato recentemente da mondadori si tratta di una raccolta di racconti di uno di quelli che sono considerati i maestri della detective fiction in giappone in particolar modo della detective fiction del dopoguerra abbiamo già avuto occasione in realtà di parlare di matsumoto seicho è stato anche uno dei protagonisti di una delle stagioni del nostro book club del book club targato hip hop è sicuramente uno degli autori che amo di più nell'ambito del genere noir e poliziesco e vi propongo questa raccolta di racconti anche se sono tradotti non dal giapponese ma dall'inglese come voi sapete in genere delle nostre pillole evitiamo di proporvi testi che sono tradotti da lingue altre perché cerchiamo anche di promuovere di sostenere le traduzioni dal giapponese ma faccio un'eccezione in questo caso proprio per l'amore che ho per quest'autore anche perché ho trovato particolarmente interessanti questi racconti che non avevo mai letto che non conoscevo ma ne approfitto anche per fare un appello insomma a mondatori anche gli altri editori perché si avvalgano di traduttori dal giapponese visto che ormai sono tanti appunto gli specialisti di traduzione dal giapponese la stessa mondadori d'altra parte ha tradotto e pubblicato un anno fa appunto l'agenzia sempre di matsumoto seicio grazie al lavoro della bravissima laura testa verde in questo caso abbiamo come dicevo invece una serie di racconti che sono stati scritti fra il 1959 e il 1965 appartengono diciamo alla prima parte quindi della produzione di matsumoto seicio che raggiunge la fama con la pubblicazione del 57 di tento sen punti e linee che è stato tradotto e pubblicato da delfi qualche anno fa col titolo tokyo express che rimane il suo romanzo sicuramente più famoso e per certi versi anche più significativo altri poi sono stati tradotti appunto da delfi altri da mondadori è la prima volta che vengono tradotte delle storie brevi il titolo originale della raccolta in giapponese è coe la voce che è appunto in realtà il titolo del penultimo dei racconti che è suddiviso in due parti e che è secondo me quello forse più intrigante che cos'è che unisce questi racconti che cos'è che li rende così interessanti sono interessanti sicuramente perché in qualche modo danno un quadro di quelle che sono alcune delle ossessioni dei motivi ricorrenti della narrativa di matsumoto seicio sicuramente l'ossessione per il delitto perfetto forse questo è il filo conduttore che rega questi racconti diversi tra di loro raccontati da voci diversi via via quella dell'assassino appunto quello di detective professionisti o casuali ma quello che li lega è sicuramente questo la ricerca del delitto perfetto che spesso si costruisce in modo estremamente macchinoso ma nella costruzione del quale inevitabilmente il colpevole l'assassino a volte vittima degli eventi in realtà come spesso accade nei romanzi di matsumoto appunto molto molto spesso finisce per lasciarsi sfuggire un dettaglio un dettaglio apparentemente insignificante ma che sarà poi all'origine della rovina in realtà in questi racconti non è tanto importante scoprire chi è l'assassino chi è il colpevole nella maggior parte dei casi il racconto è fatto proprio attraverso la voce attraverso lo sguardo e attraverso le percezioni del colpevole ma è quello di ricostruire come si è arrivati al delitto quale tipo di casualità o di ossessione ha portato l'individuo al gesto criminale e in che modo l'individuo arriva ad elaborare una strategia incredibilmente complicata molto spesso per riuscire a sfuggire alla giustizia sullo sfondo c'è il giappone del dopoguerra appunto siamo fra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 il giappone si sta avviando a quella che sarà la fase del boom economico ma ancora in realtà il benessere non ha toccato tutta tutte le fasce della popolazione ci sono dei segni dei segnali di rinascita il potenziamento sicuramente dell'industria del business che in qualche modo qualche modo a volte porta comunque a trascurare quelli che sono dei valori fondativi della società e porta proprio a commettere il delitto i colpevoli sono spesso vittime vittime delle proprie ossessioni vittime delle proprie paure vittime in qualche modo anche di un sistema che li spinge a dare il meglio di sé a essere produttivi a cercare di raggiungere comunque il successo economico l'affermazione sociale che significa la crescita della società la crescita del paese sullo sfondo appunto le trasformazioni spesso i quadri che ci dipinge matsumoto nei suoi racconti sono quadri di quartieri che stanno cambiando che si stanno trasformando dove ci sono palazzi in costruzione zone che stanno cambiando radicalmente la propria fisionomia una società quindi in crescita un mondo in movimento dove l'uomo dove l'individuo rischia di essere schiacciato appunto e poi le paure le ossessioni la paura di vedere di perdere quello che si è ottenuto la paura di non riuscire a ottenere ciò che si ritiene importante la paura poi di essere scoperti la paura di perdere gli affetti sono tante le paure che emergono appunto all'interno di questi racconti che ci trasportano proprio in quella che la dimensione peculiare dei racconti e dei romanzi di matsumoto seizio ma su auto seizio è considerato l'iniziatore dello shakai ha della scuola sociale cioè di un tipo comunque di giallo di un tipo di poliziesco di detective fiction che appunto non è incentrato tanto sulla ricerca sulla scoperta del colpevole anche se abbiamo ovviamente dei racconti dei romanzi che si muovono su questo filo conduttore ma al cuore dell'attenzione dell'autore anche quando diversamente da come accade nella maggior parte di questi racconti è già chiaro fin dall'inizio che è il colpevole quello che è appunto al cuore dell'attenzione di matsumoto è rivelare la fragilità dell'individuo la fragilità dell'individuo in una società che è in continua trasformazione ma finisce per schiacciare chi è più fragile chi si trova ai margini chi non si trova al centro di quel movimento un centro che sia politico che sia economico di qualunque tipo ecco in questi racconti più che mai matsumoto seizio da proprio voce a chi rimane ai margini a chi sente di avere un'occasione a portata di mano ma se la vede continuamente sfuggire davanti agli occhi e quindi molto spesso è spinto al gesto criminale proprio da questa pressione sociale verso l'affermazione verso il successo individuale non manca anche un racconto dove troviamo una vendetta non mancano altre ossessioni di matsumoto seizio per esempio quelle legate agli orari agli orari dei mezzi pubblici agli orari degli spostamenti chi di voi ha letto tento senne tokyo express sa di cosa sto parlando ritorna questa attenzione per quel minimo scarto del tempo che a volte si crea in un meccanismo costruito apparentemente alla perfezione che è quello che lascia uno spiraglio all'investigatore o a chi sta seguendo comunque le indagini per scoprire poi cos'è veramente accaduto per scoprire il colpevole quindi dei racconti di cui vi consiglio caldamente la lettura mi sembrano perfetti per queste vacanze natalizie che si stanno avvicinando il mio preferito come ho già detto è la voce la voce perché qui è l'elemento proprio della casualità che scatena in realtà l'atto criminale che al centro del racconto della casualità unita alla curiosità alla curiosità di una donna che la spinge a cercare di dipanare un mistero e la spinge ovviamente verso nuovi pericoli quindi buone letture a tutti matsumoto seicho la donna che scriveva haiku e altre storie buone letture e arrivederci alla prossima pillola grazie